Assessore Di Nisi oggi è stato presentato a questo evento, Pescara all'imparti, si parla di inclusività, tema molto caro all'amministrazione comunale e al suo assessorato in particolare. Sì, ancora una volta grande sensibilità per questo tema perché ancora una volta dimostriamo quando lo sport sia importante, soprattutto per la disabilità, un'inclusione sociale non solo per loro ma anche per i normodotati. Infatti avremo gare con disabili, con persone normodotate. Quindi io sono veramente orgogliosa di poter presentare a Pescara questa manifestazione e ce ne saranno tante altre ancora. Grazie veramente a tutti di cuore e soprattutto devo dare un ringraziamento particolare a chi ci ha permesso di fare questa cosa, cioè la Regione Abruzzo. Vedremo tanto sport, tanto spettacolo e soprattutto vedremo inclusione perché saranno tre giorni in cui persone con e senza disabilità si andranno a contendere tanti tornei sportivi su spiaggia. Sarà un momento in cui avremo tantissimi testimoni al Paralimpici che racconteranno le loro meravigliose storie e avremo dei momenti di intrattenimento serali dove lo spazio alla musica e al teatro comico saranno veramente importanti. Questa iniziativa nasce grazie alla collaborazione di tre associazioni, Mediterranei Eventi, Aism e Bios, che decidono di creare un evento che possa essere uno strumento. Uno strumento proprio per avvicinare il mondo dello sport al mondo della disabilità. Nasce a Mirazzo in Sicilia e quest'anno approda anche a Pescara. Grazie. Grazie. Grazie.